La sera il sindaco incontrerà i cittadini anche del quartiere San Lazzaro, ma c'è poco da incontrare, c'è poco da far chiacchiere, qui bisogna passare i fatti. È passato un anno, quindi la mia vuole essere sì una critica ma anche una sollecitare questa amministrazione a iniziare a prendere su serio le istanze dei cittadini di San Lazzaro. Un quartiere con pochi servizi persino sul fronte del trasporto pubblico. San Lazzaro è un quartiere che si sente troppo spesso trascurato se non addirittura dimenticato da Palazzo Moroni. Ma preoccupare ancora di più è la denuncia di Luciani e che il futuro sembri prevedere un ulteriore peggioramento. Quindi mancano veramente tante tante cose. Quello che invece imbarazza un po' è vedere che anche quel poco che è rimasto, cioè un'area giochi che è stata fatta al centro del quartiere, è un'area cane e sono nell'abbandono. Le segnalazioni di questi giorni appunto dei cittadini di San Lazzaro sono nel dirmi guarda non abbiamo neanche un posto dove portare i nostri bimbi a giocare sulle giostrine. Hanno rimosso delle altalene, hanno rimosso i giochi, quelli che sono rimasti sono stati recintati, cioè praticamente l'area giochi non c'è più. Pochi chilometri da San Lazzaro si passa a Granze di Camina, ancora un quartiere della cintura esterna trascurato i cui problemi attendono da anni una soluzione. Anche Granze è uno di quei quartieri dove non c'è neanche più praticamente un negozio aperto e dove almeno i servizi della collettività, quali sono le aree giochi, le aree cani, i giardini pubblici o i marciapiedi stessi, diano l'opportunità ai cittadini di vivere comunque il quartiere. Oggi queste zone sono abbandonate a se stesse. Oggi queste zone sono abbandonate a se stesse.